Oh ragazzi, ma guardate chi c'è al bar a troteggio della faccione! Ma no, c'è Maccio Capatonda! Ma no, non ha spazio! Faccia spazio, ti faccio passare! Ciao Maccio, ma c'eravamo salutati prima! Vieni Maccio! Forrest! Vabbè, se me lo rientra anche lei! Lei è veramente... Maccio Capatonda! Finalmente ci parlerà del suo film! Bravo! Farà un bel trailer! Io ero venuto per dire che non ci sto! Sì, ma l'abbiamo già detto! Però uno solo, un trailer, ce lo puoi fare il tuo film? Allora, per fare i trailer live serve una loop machine con almeno otto canale di 16 pad. Ha ragione! Una loop machine otto canale da 16 pad di X4? Sì, certo! Ma ce l'abbiamo! Ma come? Ma non l'abbiamo mai avuta! Ma lei cosa ci fai? Ti lascia in compagnia della Gialapaccio! Vabbè! Dai, cominciamo col trailer! Sì, ora Maccio Capatonda in esclusiva mondiale presenta... Il suo nuovo film! Una cosa che voglio fare tantissimo, eh! Vai! Maccio Capatonda aveva un dono! Io ho un dono! Sentiva delle voci! Ma questo non sembra il trailer del tuo film, eh! Voci che facevano richieste rompicoglioni! No, no, vai, facci il trailer del film, Maccio! Eh, dai, lui aveva paura di vendersi! Ragazzi, io ve l'ho già detto, cioè non mi va di fare le marchette, cioè non voglio parlarne, voglio... voglio fare con voi i trailer stupidi! Quest'anno preparatevi ad assaggiare il potere del marketing! Vabbè, Maccio, allora lo diciamo noi, il migliore dei mondi! Su Prime Video dal 17 di novembre scorso! Maccio Capatonda, Marco Santini, Giorgio Gelarducci e la partecipazione muta di Carlo Tarano! Eh, sì, anche lui! Voi potete dire quello che mi pare, ma io non lo farò mai il trailer del mio nuovo film! Il trailer del mio nuovo film! Un film di... Cui non voglio parlare! Vito, è Gianni, cui non voglio parlare, regista! Ah, è un regista! Ah, ma c'è! Perché sembrava che fosse lui che non voleva... È un grande Gianni, cui non voglio parlare! Ha fatto solo film porno, però... Pornosoft, pornosoft, però... Senti, ci faresti al volo con la R4 Machine, un trailer per sensualità corte... Ma che trailer? Dove lo vediamo? Pro de madre, dai, ce lo fai? Però prima posso provare a farne... Ma cosa devi fare? Cosa vuol toccare? È pericoloso! Se io faccio così... Ehi, ragazzi, come stai, Marco? Andiamo insieme! Andiamo a fare una passeggiata tutti insieme! È inutile che ridi! Tu hai rubato la mia capra! Ma quel tessuto, quella capra, era una sgualdrina! Ah, ecco! Lo dici come se fosse una cosa negativa! Sto morendo, John! Sto morendo! Sto morendo, ma c'è! Sta bene, così non rubi più capre! Ma cosa? La capra era... Basta, basta! Mi sono divertito abbastanza! Vabbè! Sensualità corte! Sì! Poco! Anzi, tra adesso! Eccolo! Tra adesso! Ora! Sta la pazánude! Poco! D' serio!